La prossima artista in casa sarà Sara Mincagli da Cortona I ricordi sono attimi di gioia ma anche attimi di sofferenza Sanno emozionare ma a volte fanno male Come tutti noi sappiamo nel ricordo prevale il dolore Perché le esperienze infelici sono impressi nella nostra vita Quando pensiamo alle persone a cui abbiamo voluto veramente bene Siamo invasi alla nostalgia, rimorso e ripianta Nessuno di noi vorrebbe distruggere l'album dei ricordi Perché ci fa sentire vicine quelle persone che non ci sono più La prossima artista in casa 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti